Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori ci sono 6 km di coda tra Empoli e Montelupo-Fiorentino e rallentamenti tra Montelupo e Ginestra-Fiorentina in direzione Firenze e 1 km di coda tra Ginestra e Montelupo in direzione Livorno. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza tra Montelupo e Ginestra con restringimenti, percorsi alternativi sulla strada provinciale 12 o per i viaggi più lunghi sull'autostrada A11. Incidente ad Empoli-Est in uscita provenendo da entrambe le direzioni in entrata verso Firenze. In A11 verso Firenze coda a tratti tra Alto Passo e Prato-Ovest e rallentamenti tra Prato-Ovest e l'allacciamento con l'A1. In A1 in direzione Bologna rallentamenti tra Valdarno e Firenze-Sud e tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze, buon viaggio!